birrificio petroniano la birra la birra artigianale quest'oggi anche la birra con il pane quindi sempre grandi novità come dire finalmente si riparte si guarda con più serenità con grande attenzione grande precauzione però sicuramente questo è un luogo bello anche per incontrarsi per fare che in qualche modo in questo periodo covid e si è evoluto e cambiato avete lavorato se oggi oggi è uno spettacolo vedere l'associazione dei panificatori la convenzione la birra che abbiamo fatto insieme per me è il coronamento di un sogno il rilancio di questa struttura dell'antico loghetto insieme con la produzione della birra e poi questa è una giornata spettacolare perché è anche un giorno di rilancio dopo i mesi di chiusura del ovviamente sopportati e passati da tutti nel prima diciamo del periodo estivo mesi che per noi chiaramente hanno portato in sintonia e in rispetto delle regole nazionali a una chiusura una chiusura che noi abbiamo cercato di utilizzare nel migliore dei modi quindi abbiamo studiato questo tipo di collaborazione abbiamo approfittato per migliorare la struttura del birrificio le nostre ricette chiaramente ampliarle e questo ha portato tra l'altro una cosa che avevo già anticipato precedentemente cioè l'apertura della cucina l'apertura della cucina ci ha permesso di ampliare l'offerta culinaria ricordo tutti che questo è un birrificio di produzione quindi il pub viene come accessorio quindi il pub con la somministrazione di alimenti però è chiaro che bevendo una buona birra ti viene subito fame e accompagnare i nostri taglieri iniziali con sempre graditissimi di eccellenza del territorio di salumi e formaggi adesso con hamburger e stinco pollo cotti e preparati con le nostre birre diciamo che il coronamento di questo sogno insomma poi ci vuole il buon pane la buona crescente quindi bisogna rifornirsi dei forni buoni in questo caso calamelli mi sembra che giochi un ruolo fondamentale non averlo come sozzo è un valore aggiunto enorme tanto più che noi diciamo che da noi si beve la birra fatta da noi e il pane fatto da noi perché essendo sozzo nel birrificio e chiaramente il calamello è un forno storico riconosciuto fa un ottimo prodotto e qual era la liaison migliore quella di produrre una birra col pane col pane tutto rigorosamente in compagnia a distanza la mascherina quello che serve però alla fine anche un bel momento di aggregazione per ritrovare te e anche brandizzata mascherine personalizzate massima attenzione a tutte le norme e ci estende ci siamo noi abbiamo la fortuna di avere un spazio esterno importante chiaramente con tutti i distanziamenti che dobbiamo utilizzare quindi i metri eccetera utilizziamo con le belle giornate lo spazio esterno per poterci divertire tutti e non mandare a casa nessuno perché ahimè nei periodi pre covid potevamo imballare completamente il locale adesso invece dobbiamo mantenere queste distanze allora col mastro birraio cerchiamo di capire intanto allora il covid alla birra non ha fatto assolutamente nulla specie quella artigianale no cercavamo di portarla ai clienti a casa per cercare di tenerli legati al nostro birrificio in qualche modo abbiamo mantenuto la passione della birra viva senti allora oggi si presenta una birra particolare insieme ai panificatori così però intanto parliamo un po della della vostra birra artigianale i segreti quello che ci puoi svelare no non ci sono dei grossi segreti abbiamo abbiamo nove birre nove nostre ricette e una stili abbastanza classici parto da una bassa fermentazione per arrivare a una una stout e passando da una fumicata una 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 bitter stile inglese che è la prima birra che abbiamo fatto che tutto quest'anno ha vinto anche un premio quindi siamo contenti e invece questo progetto che stiamo facendo con i panificatori è una birra al pane a una percentuale di pane circa il 25 per cento di pane del giorno prima tostato a 90 gradi per un'ora e quindi ho ottenuto una birra leggera con un pochettino diretto gusto di tostato di pane e sta avendo anche un discreto successo perché c'è anche la la cosa di recuperare diciamo il pane del giorno prima appunto il pane vecchio quanta cura ci vuole per fare una birra artigianale ma la cosa fondamentale è la pulizia diciamo che l'igienizzazione è la cosa fondamentale poi è un pochettino mescolare ingredienti malti luppoli io lo associo sempre un pochettino è come cucinare cioè una volta che conosce le caratteristiche degli ingredienti che devi mettere insieme dopo ovviamente il maestro birraio o diciamo lo chef che cucina li assembla a suo gusto e niente ottiene dei prodotti con le caratteristiche che ovviamente uno vuole si cerca qual è il mondo migliore per gustare una buona birra artigianale partendo da questa colpana cosa va accompagnata ma sicuramente ha un una bella seduta con una bella donna o degli amici qualcosa da stuzzicare e niente dai la birra io l'ho sempre associato un pochettino all'essere conviviale quindi da solo si va bene d'estate bella bevo mette solo il giardino così ma c'hai un amico da fare due chiacchiere è più divertente è più buona la buona birra la birra col pane intanto la grande novità che viene presentata è comunque la birra sempre accompagnata con il buon pane la crescenta le pizze tutto sì con tutti i prodotti che faccio io abitualmente nel forno quindi pane crescente streghette e in più accompagnata con i salumi i formaggi doc adesso abbiamo introdotto anche l'hamburger quindi pane d'hamburger con un hamburger fatto a regola d'arte da un nostro amico macellaio e più avanti introdurremo anche lo stinco e così per avere un'ampia gamma di prodotti da offrire al cliente la birra fatta col pane è una cosa curiosa per un fornaio come come diciamo il forno calamelli fatta col pane è una cosa interessantissima sì sì è era un progetto che volevo portare fuo avanti ma da 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 tempo ho avuto l'occasione con col presidente dei panificatori grazie a una bottura che mi ha proposto appunto di fare questa birra con il pane quindi un pane non condito e tostato permette anche come dire di non buttare via il pane cioè di utilizzarlo tutto sì appunto la rimanenza del pane del giorno prima viene messo da parte e tostato dopo un periodo un piccolo periodo grazie a tutti